Sono iniziati solamente il mese scorso i lavori di restauro all'interno del Duomo di Santo Stefano, eppure un'importante donazione di 10.000 euro è già arrivata in favore della parrocchia, più precisamente dalla sezione Abis di Casal Maggiore. Un'idea, questa, del presidente Stefano Assandri, per far conoscere Abis e le sue iniziative alla cittadinanza. Un bel gesto che non va inteso quindi come una mera questione economica, ha spiegato Eugenio Negri, presidente del Collegio Revisori dei Conti, bensì di servizio pubblico, in quanto Abis è un'associazione che ha lo scopo di raccogliere sangue a favore della comunità. Quindi non è una questione economica, ma è una questione proprio di servizio pubblico per la comunità. E visto che in questo momento c'è in corso questa grossa operazione che riguarda la comunità di Casal Maggiore, perché il Duomo è un patrimonio della comunità. E allora il presidente dell'Avis ha avuto questa idea come azione promozionale per l'Avis di partecipare a questa, a contribuire per il restauro del Duomo. Quindi lo scopo della nostra partecipazione è proprio a fondo propagandistico per l'Avis, per far conoscere l'Avis e per far vedere che l'Avis partecipa, oltre che raccogliere il sangue, partecipate alle attività della comunità di Casal Maggiore.